Questo è il momento più intenso della giornata. Le statue dei Santi Medici entrano nella Basilica di San Nicola e si rivolgono al Santo che come loro è arrivato dall'Oriente. È uno dei tanti momenti di devozione che evidenziano l'arrivo a Bari dei Santi Cosma e Damiano. Nel maggio del 2006 era stato il protettore del capoluogo ad essere ospite del Santuario di Bitonto. Da ieri i Santi Medici invece sono nella casa del Santo Taumaturgo di Mira e resteranno fino a sabato. I Santi sono stati accolti nella Cattedrale di Bari prima di fare il loro ingresso in Basilica dopo la processione per le vie del centro storico accompagnati dai fedeli, dai rappresentanti delle diverse confraternite della città, da Don Ciccio Savino, rettore del Santuario di Bitonto e da padre Damiano Bova, rettore della Basilica di San Nicola che ha poi presieduto la celebrazione eucaristica della sera. Oggi il programma prevede, tra le altre cose, alle 17.45 la concelebrazione eucaristica presieduta da Don Mimo Minafra. sarà trasmessa in streaming sul nostro sito www.antennasud.com e sulla nuova web tv di San Nicola www.sannicolas.tv